Una banda di quattro disperati decide di studiare un piano e fare soldi in fretta. Viagra! Ma... No, 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 da quella parte! È scomparso un intero carico di pillole di Viagra per un valore di circa 63 milioni di totari. E la loro fortuna finì a mollo nelle acque del villaggio. Che strano sapore all'acqua oggi! Che roba è? Caramelle celestiali! Oliwater! Il film che vi tirerà su! Grazie a tutti!